Oggi ha parlato il presidentissimo Massimo Moratti ed è tornato sulla questione Icardi che tutti voi ormai ricordate bene. Ieri, mercoledì 13 febbraio, è successo di tutto. Degradato il capitano, non parte per Vienna, ha rifiutato di partire per Vienna. Rimaniamo ancora un attimo su Icardi. Le ultime notizie parlano di un Icardi che si è andato ad Appiano Gentile a curarsi la caviglia. Qualcuno poi dubiterà che si tratti di un male effettivo, visto che ha giocato anche l'altro giorno a Parma, oppure una malattia diplomatica. Questo lasciamo ai vostri retropensieri. La verità è che in questo momento è a Appiano Gentile, è andato per meglio dire ad Appiano Gentile. Si dice già, si anticipa già che non sarà a disposizione per il match contro la Sampdoria e quindi un problema forse a livello diplomatico in meno per la società. Ma questo è per quello che riguarda la situazione odierna di Icardi a Milano, mentre la squadra è a poche ore dal primo match di Europa League Delicator contro il Rappi di Vienna, dove sarà Lautaro Martinez a guidare l'attacco dell'Inter. Ma torniamo alle parole del presidentissimo Massimo Moratti. Abbastanza, anzi, decisamente duro con la società, al microfono di Simone Malagutti, nostro collega di Sport Mediaset. Innanzitutto un paragone con Bergomi e Zanetti rispetto a Icardi. Icardi è un bravo ragazzo, un serio professionista, ha detto il presidente. Mi sono sempre trovato bene con lui, mi ha sempre ben rappresentato. E poi la prima frecciata verso la società. Colpa mia, colpa sua, colpa di chi, colpa di chi. Ma tutto doveva rimanere ben chiuso all'interno della società. Che necessità c'era di mettere pubblicamente tutti questi eventuali problemi interni e metterli a pubblico, diciamo, lo dico io, al pubblico ludibrio, diciamo invece renderli pubblici con tutti i problemi del caso, con tutti i commenti del caso, i social, e tutto questo è impazzito intorno alla figura di Icardi. Ma poi va anche oltre il presidente Moratti. Dice, e adesso? A chi giova tutto questo? La società non può venderlo in questo momento. E quindi a metà stagione, trovo, dice il presidente Moratti, che sia abbastanza imbarazzante questa situazione a metà stagione. Queste più o meno le parole del presidente. Anche perché adesso ci sono solo problemi che sono di difficile risoluzione. Quindi il presidente Moratti, molto critico nei confronti della società, fa capire, anche se non lo dice, che si sarebbe comportato in maniera diversa, si è comportato a suo tempo in maniera diversa con i giocatori che lui ha sempre idolatrato, ha sempre vezzeggiato, ha sempre amato in maniera particolare, tra virgolette viziandoli un po', ma con risultati importanti, suoi non solo di Massimo Moratti, ma anche del padre Angelo, quindi della sua stirpe. Quindi questa è la situazione. Non si è lasciato andare a frasi diplomatiche, ripeto, al microfono di Simone Malagutti di Sport Mediaset, ma è andato giù abbastanza deciso. Il presidente Moratti non è assolutamente d'accordo con le strategie mediatiche interne della società per quello che riguarda il punto Icardi. Quindi Icardi potrebbe farsi forte di questo atteggiamento del presidente, che ovviamente è sempre seguito molto dai tifosi, perché è stato ed è ancora tutto sommato un punto di riferimento, visto che la propria età è lontana, anche se il presidente Zen è quasi sempre a Milano, però indubbiamente Massimo Moratti rappresenta l'interismo, mettiamo così, ai massimi livelli. Quindi parole chiare, parole ferme, parole di disaccordo nei confronti delle strategie della società. Vedremo che cosa porteranno queste dichiarazioni ferme, serene, ma decise del presidente Moratti. Se vi è piaciuto questo like, questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.